Questa sera all'interno delle Termetei abbiamo avuto il piacere in questa bella serata organizzata con Confesercenti e Terme di Chianciano di incontrare la neo nominata responsabile sales marketing di Terme di Chianciano, Barbara Scorza. Un ritorno a Chianciano Termina. Innanzitutto bentornata. Grazie, dopo vent'anni. Dopo vent'anni, dopo l'APT, si torna dalle Terme di Saturni alle Terme di Chianciano. Una bella sfida. È una bella sfida, è una sfida che sono felice di intraprendere, sinceramente. Sono molto contenta. Serate come questa che abbiamo appena vissuto confermano le qualità di Chianciano? Sì, ci confermano anche che è un prodotto che ha il suo appeal e anche che è un prodotto di qualità, come potete vedere, e anche dai risultati di questa serata che è stata bellissima.